Giovedì 2 luglio, bentornati alla puntata numero 25 di Biblioboom in onda su Sesto Network. Anche oggi siamo pronti a consigliarvi un'infinità di novità, libri, ma non solo. Non sono ovviamente da solo, guardate il giro di parole, ma assieme a me c'è anche Francesco. Buongiorno! Ehi, ciao! 2 luglio, ragazzi, un'estate che inizia a prendere veramente piede e forma, caldo, il sole che cuoce, il desiderio di trovare un momento di rinfresco che è quello del mare o della montagna. E Biblioboom è qui, è qui con voi, in questo fantastico giovedì 2 luglio che vi accompagnerà per questa mattinata. Eh sì, dai, non possiamo lamentarci perché ci siamo già lamentati tanto di quel fine maggio-giugno in cui abbiamo preso tanta di quell'acqua che non si poteva mettere i piedi fuori dalla porta, finalmente è arrivato il caldo e qualche piccola gitarella qua e là si può finalmente fare. Eh sì, anche perché oggi diciamo che l'idea che vogliamo sviluppare nel nostro programma è quello del ricominciare. Sarebbe ideale quello che dicevi tu prima, ricominciamo anche con la canzone, no? Però non siamo riusciti ad organizzarci. Eh no, no, infatti come diceva il buon Pappardo, ricominciamo, ricominciamo un po' in tutti i sensi, dal punto di vista lavorativo con le nostre biblioteche, pian pianino stiamo riaprendo, stiamo organizzando diverse attività che poi dopo approfondiremo anche con l'amica Erika e non solo dal punto di vista lavorativo. Ognuno di noi sta ricominciando a fare delle cose che aveva un attimo messo nel cassetto. Bella, bella il, come dire, la modalità, no? Nel senso che oggi magari lo chiederemo a tutti quali sono i momenti dove uno si sente di ricominciare. Parto da te Elios, qual è stato il tuo momento dove dici, mi sa che sto proprio ripartendo, sto ricominciando? Eh, come si diceva un po' anche dalle chiacchierate di queste 25 puntate, alla fine quello che mancava erano cose semplici. Il chiacchierare non con le videochiamate, andare a mangiarsi una pizza, farsi un giretto fuori porta, al mare, piuttosto che da qualsiasi parte. E poi parlarsi a quattro occhi, sempre con una certa distanza. Con queste videochiamate che veramente non se ne poteva più, parlare con le persone, vedere solo il mento, solo la fronte, perché con le videochiamate alla fine si finiva così. E vabbè, però veramente ricominciare vuol dire veramente intraprendere... E se franta cosa... No, stavo dicendo che ricominciare vuol dire anche reintraprendere i percorsi interpersonali, cioè nel senso il vedersi, il guardarsi negli occhi, chiacchierare del più e del meno e non solo, perché anche con delle riunioni... Però, boh, vediamo. Allora, io il mio ricominciare è iniziato con una pizza. Una pizza, come dicevo, nei periodi di lockdown, tra i miei sogni era tornare a mangiarmi una pizza in un ristorante. Siamo tornati, naturalmente, assolutamente rispettosi di tutte quelle che sono le regole che hanno messo, che sono in gioco adesso per poter convivere in spazi come una pizzeria. Perciò il distanziamento tra tavoli, perciò appena entri la temperatura, bisurare la temperatura e poi utilizzare dei liquidi disinfettanti per le mani e assolutamente accedere con la mascherina. Questa è stata, però devo dire che è stato carino perché mi sono un po' ritrovato che può tornare tutto come era prima e io ci credo e spero accada. Io spero tanto che a settembre, ottobre, insomma, quando sarà, riusciremo ad andare in onda con la puntata numero, boh, che ne so, 30, 35, insieme, a sesto San Giovanni, a sesto Netto, nella sede. Prima o poi succederà perché alla fine della fiera, tra i mesi che stiamo facendo questa cosa qui, non ci siamo ancora visti. Quindi non vedo l'ora di fare una puntata insieme. Oggi, per tornare alla puntata di oggi, abbiamo una puntata abbastanza ambiziosa, nel senso che abbiamo tanti ospiti che saranno con noi. I tempi sono già stretti, però siamo contenti perché ci sarà, come al solito, la nostra Erika. Poi, Elios? Poi ci andremo oltreoceano con Barbara e Antonella da Lisbona e da Londra. E poi abbiamo invitato Riccardo e Anna, sono due responsabili del CSBNO, che ci racconteranno di un'iniziativa che calza a pennello con il tema di oggi, che è quello del ricominciare. E poi la nostra Anna, la collega della nostra biblioteca, che, come al solito, racconterà una delle sue perle, ma soprattutto consiglierà della ottima musica, come oramai ci ha abituati. Eh sì, Fra, concedimi questa parente, quando dici ottima musica, oggi è il 2 luglio, io mi ricordo, caro il mio giovane, che tre anni fa, il primo luglio, non il 2 luglio, che cosa è successo? E' successo che ci siamo, ci siamo gustati un concerto del secolo, del secolo, del secolo, perché eravamo in 220.000, 250, adesso non ricordo, ed eravamo in Modena City Park, ed eravamo i quattro giusti, adesso la direi alla Fiorello, io, tu, l'Annalisa, ed erica, ed erica, belli, fantasticamente sereni, nell'attesa di un concerto meraviglioso, e tutto, la festa, la nostra piccola festa di tre anni fa, è iniziata con il viaggio, siamo partiti da sesto, siamo arrivati, abbiamo preso, abbiamo portato il parcheggio, poi abbiamo preso il posto, siamo andati, siamo stati, come dire, all'interno della, della nostra, della nostra zona, e però, come raccontavi tu ieri sera, ci siamo rivisti nel concerto che ha mandato ieri sera la Rai, e sapevamo che c'era un unico albero, e noi eravamo sotto quell'albero, perciò è stato bello rivedersi, non dal vivo, ma sapere che noi eravamo lì. Che noi c'eravamo, sì sì sì, infatti, le foto dall'alto sono qualcosa di impressionante, che ti fa rendere conto di davvero in quanti, in quanti c'eravamo, però del viaggio poi, hai tralasciato un piccolo particolare, anche il pranzettino che ci siamo fatti, nella, nella sosta, nella piattoa, era troppo facile portarsi un semplice panino al prosciutto, no? Vabbè, però, scusami, però, ci sono delle certezze nella vita, e la nostra analisa, rispetto a questa cosa qua, è una, una certezza, e dobbiamo dirlo. E tutti abbiamo, come dire, approfittato del suo modo di essere e di fare, cioè una brava cuoca, e soprattutto una che, e ci coccola, ci coccola, lo fa ancora adesso. Perciò grazie Anna, grazie Erika, e grazie a te Elios, per avermi, come dire, per aver organizzato questa bellissima giornata, che rimarrà nella nostra vita impressa per sempre. Ok, allora, magari dopo facciamo due chiacchiere di questo concerto anche con Erika, che era una dei quattro moschettieri di quel giorno. Quindi, cosa facciamo, Fra? Lanciamo la prima canzone che ho scelto, perché secondo me è la canzone che in questo momento richiama di più l'estate, quindi anche la canzone che metteremo adesso richiama un po' il tema del ricominciamo. Perciò è in stante... Quindi la canzone, la canzone karaoke di Boom Boom Amoroso. Eravamo, niente, non abbiamo proprio presentato la nostra Erika, che è qui che aspetta e ci sta, ci stava raccontando un po' di, di novità, Elios. Eh sì, abbiamo lasciato Erika in attesa nel giardino della biblioteca, si è stata divorata dalle zandare, quindi non ce l'abbiamo più adesso, Erika è qua. Allora, Erika, riandiamo a questo punto un pochino più veloce, ridici tutto quello che ci avevi detto prima. Sì, velocissimamente, allora, troverete un sacco di eventi che vengono fatti nel cortile della nostra biblioteca. Vi ricordati che per prenotare a questi eventi dovete guardare l'evento e prenotare o al numero di telefono o via email di quell'evento, quindi non chiamate in biblioteca perché noi non presentiamo appuntamenti per gli eventi. Vi trovate sulla nostra pagina Facebook o sul sito del Comune. Mi raccomando, vengono tutti insieme. E poi ricordatevi che c'è un bellissimo appuntamento per i bimbi, quindi chiamate... Oggi abbiamo avuto una notizia fantastica che è tutto esaurito. E già i posti sono andati, sì, sì, sì. E vabbè, lo diciamo lo stesso. Assolutamente, sì. Beh, non c'è solo quello, ce ne sarà un altro, quindi... Non demordiamo, non demordiamo, non demordiamo. Siamo alla... come dire, stiamo cercando di dare un contributo legato a quest'estate che è un po' fiocca, no? Invece voi che state seguendo un po' più gli eventi, Erika, come ti sembra? Come reagiscono le persone rispetto alle proposte che noi stiamo facendo come biblioteca? Ma abbiamo passato veramente a 360 gradi, dal teatro al tango, al rilascio, alle musiche, alle campane tibetanee, insomma, ai bimbi. Quindi abbiamo proprio toccato a 360 gradi tutti, quindi insomma, siamo molto contenti. Le associazioni che stanno venendo, che si sono proposte anche per fare gli eventi, sono molto contenti, quindi sta funzionando. Allora, però... Sì, nei giorni in cui sono andato anch'io in biblioteca al lavoro di gente che chiedeva, che si fermava a guardare, ce n'era. Quindi io penso che, un po' come ha detto anche Erika, la risposta dei nostri utenti, anche in questo periodo un po' particolare, sia buona. Sì. Siamo che abbiamo fatto di tutto per stare comunque più vicino possibile ai nostri cittadini, quindi direi che possiamo essere felici e contenti di quello che è stato fatto. Ok, 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 ok. Invece, no, però, non so se ve lo siete dimenticati, però noi tre anni fa, Elios, abbiamo aderito e partecipato ad un evento quasi mondiale, no? No, quasi. Eravamo fra i 250.000 del megaconcerto, eravamo io, tu, Erika e Annalisa. Che ricordi ieri sera, ragazzi? Bellissimo. Sì, 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 sì. Io, la roba che più mi è rimasta impressa di quel concetto, avevo mille cose, però, è quando poi, il giorno dopo, ho guardato le foto dall'alto, e ho capito, perché noi eravamo sotto un albero che era abbastanza riconoscibile, dove eravamo, e quanta gente avevamo dietro, non mi sembrava vero, era un mare, un mare di persone. Penso che sia stata l'unica volta che ho visto così tanta gente insieme. Eh sì, perché quando... Non penso che sia un altro evento del genere. E poi diciamo che è rimasto nel nostro quartetto questa meravigliosa foto tutti insieme che guardavamo il cielo. Soddisfatti. Io vi osservavo uno per uno e vedevo quanto eravamo tranquilli e sereni. È stato bello. Sì, grazie. E di questo vi ringrazio. E proprio per questo noi, cosa mandiamo adesso per salutare Erika, Elios? Ho scelto, sì, io l'ho scelta. Ah, dai. La prima di Vasco, che è Tim Magini. Ciao Erika! Ciao Erika! Tim Magini di Vasco Rossi, ma adesso abbiamo una guest star, abbiamo la nostra Anna, vero Elios? Che ci accompagna oramai con le sue perle di saggezza legate alla promozione di questi meravigliosi libri. Abbiamo avuto già, come dire, possibilità di conoscerla e ci ha proposto libri che oramai a ventaglio coprono quasi tutta dall'inizio della scrittura ad oggi. Perché abbiamo parlato anche del 300, abbiamo parlato di fine 800 e abbiamo parlato anche di contemporanei. Buongiorno Anna! Ciao, buongiorno a tutti, piacere di ritrovarvi, sono contenta. Ciao Anna! Oggi, visto che inizia l'estate e un po' tutto, siamo stati proprio sul soft, molto molto soft a mio parere, però il libro che a me era piaciuto molto e quindi lo voglio riproporre. Il libro è di Chiara Gamberale e si chiama Per 10 minuti. Allora, Chiara Gamberale spesso scrive delle cose fotobiografiche. La situazione è questa, praticamente a un certo punto si trova, si lascia col compagno, il lavoro, il forse, forse deve cambiare casa. Quindi per lei che tra l'altro, almeno nei suoi romanzi, a volte è un po' schizzata come carattere, è un momento veramente molto pesante, quindi non sa bene come affrontarlo. La sua psicanalista, o psicologa, scusate, non vorrei offendere la Chiara Gamberale, non mi ricordo, le consiglia una terapia molto particolare. Per un mese, quindi 30 giorni, cosa nuova, strana, che non ha mai fatto. E quindi lei all'inizio è un po' perplessa, ma poi parte con queste cose. Chiaramente lei è avvantaggiata, perché per esempio una delle cose che fa è, va in libreria e chiede al libraio di fare il libro. La Gamberale, noi magari non possiamo farlo, ma delle cose anche molto strane, tipo camminare all'indietro, oppure dare il proprio cellulare a un'altra persona. E quando ho un'esempio, che ho trovato molto carino, perché secondo me è divertente come idea. E forse in questo momento in casa, chissà quante cose ci sono venute in mente, che avevamo rimandato di fare perché tanto lo potevamo fare avanti. È vero, sei stata bravissima Anna, perché quando ieri, o l'altro ieri, ci siamo scritti, sentiti, e ho detto che il tema era quello del ricominciare, secondo me non potevi trovare un libro più azzeccato, perché dieci minuti al giorno per ricominciare, per fare cose mai fatte e poi come stavi dicendo ci si... Io penso che tutti noi, almeno una cosa che non avremmo mai fatto in vita nostra, il tempo ce l'avevamo per farla. Sì, no, infatti il tempo c'era, però magari mancava a quel punto l'occasione, perché se sono cose che tu dovevi fare fuori o con altre persone, la cosa diventava difficile, quindi secondo me è un libro che quando abbiamo parlato appunto con te, mi è venuto in mente, a me già era piaciuto prima, però insomma mi è sembrato azzeccato, anche un po' ironico, perché insomma il ricominciare è faticoso, perché comunque in questo momento comunque tutto è diverso, si vorrebbe che tutto fosse uguale, ma in realtà tutto è diverso. E quindi questo è molto soft, una cosa che uno dice sì, faccio una cosa. Fare l'ipote che non aveva mai ballato può essere una cosa anche interessante da notare. Fare tutti i giorni, per 15 minuti alla fine diventano tanti, che se sono tanti... ...cocche cose, ma se tutti assieme non... ...la vita un po' della carne. Anna, che tu hai fatto, che non avevi mai fatto durante tutto il periodo della quarantena. No, durante il periodo della quarantena no, io lo dico praticamente, sono stata molto male, quindi... Quindi sono limitata alla cura sopravvivenza. Adesso invece sto pensando ai famosi 10 minuti quotidiani, e le cose che avevo rimandato per vari motivi... Io ho provato a fare delle torte mentre ero inchiuso in casa. Mai fatto in vita mia delle torte, forse era meglio se lasciamo stare, però qualcosa ho provato. No, beh, nei 10 minuti, poi uno in 30 giorni, ci saranno due cose che poi gli piace fare tutta la vita e le altre 28 no, però, insomma, dovrebbe essere un spunto. Quindi, ridiciamo bene il titolo. Il titolo è per 10 minuti... Vai, 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 vai. No, se il titolo è molto semplice, per 10 minuti di Chiara Gamberale, tra l'altro è un libriccino piccino, che si porta facilmente anche in tasca, e quindi se uno va al parco a leggere, se lo tiene nella borsina, e poi si rugge al parco volendo. Se non l'ha mai fatto, è già la prima cosa di 10 minuti che si può fare nuova. Infatti, infatti. Per quanto riguarda la canzone, Anna, tu ci stupisci ogni volta, ogni volta ci proponi un qualche cosa di molto particolare. E anche questa volta, per essere sincero, sei andato sull'originale. Qui sono, questi sono gli anni 80, ma quelli proprio doc per intenditori. Questo gruppo ha fatto un po' di successo nella seconda metà degli anni 80. Ha fatto anche un video con Andy Warhol, quindi non sono proprio gli ultimi sfidati. Si chiamano Curiosity Kill the Cat. La canzone l'ho scelta perché il titolo è quello che a certe volte noi ci siamo lamentati, prima del prima, che pare una giornata come tutte le altre. No, non è male. Quello che mi auguro quando mi asso la mattina adesso è un ordinary day. Quindi una giornata tranquilla, liscia, normale. Quindi questo è un augurio un po'. Sì, 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 è vero. Ok, questa è la canzone. Grazie, Anna, grazie. Ciao, ciao, Cani. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Un abrazo, ciao, grazie. Qua rientriamo, rientriamo. Vedo, 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 vedo da Londra una luce diversa, un sole smagliato, un sorriso e un sole bellissimo. Buongiorno, Anto. Ciao, ragazzi. Ciao, Elio. Ciao, Francesco. Ciao. Bentornata, si dice così, no? Nelle trasmissioni quelle serie, bentornata. Grazie. Ciao, Anto. Come stai? Sto bene, sto bene. Sembra che ci sia il sole, ma è un sole un po' nuvoloso. Un po' finto. Un po' finto. Allora, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici che stanno risolvendo i nostri tecnici. Però, come dire, siamo on air e stiamo cercando di dare un contributo a questa giornata complicata, complicata a livello tecnologico. Ma abbiamo anche con noi stamattina insieme anche Barbara. Ciao, Barbara. Ciao, buongiorno. Perciò facciamo una chiacchiera a quattro, vero, Elios? Allora, vai, vai. Da Lisbona stiamo uscendo dalle caverne. State uscendo da Lisbona? Ora con tutte le dovute raccomandazioni, però cominciamo. E c'è cosa è la cosa? Che invece di uscire le spiagge, le persone si stanno avvicinando ai parti, alle zone più boschive, cioè cercano forse il contatto più polverde. E quindi grande caverne. Settimana scorsa, figurati che avevo l'assemblea generale della mia associazione, visto le impossibilità di riunirci in spazi, chiude e siamo andati nel parco. Bellissimo, cioè si stanno modificando abitudini, cercando di introdurre quello che ci è mancato in questo tempo, in questo periodo, da cremese a questa parte. Quindi, niente, ci stanno veramente, ci stanno muovendo in questo modo. Ecco, diciamo che c'è stato anche due settimane fa, hanno iniziato ad aprire questo processo di confinamento, come è stato definito. E il primo fine settimana, purtroppo, ci siamo andati un po' tutti, abbiamo fatto troppo, ci siamo andati oltre quello che dovevamo. E quindi quel successo che il primo ministro, la settimana scorsa, è venuto a dire attenzione, siamo stati in un passetto indietro perché erano iniziati altri casi, erano ammendati. Quindi con calma ci siamo riorganizzati e la cosa, insomma, sta prendendo. Sai cos'è il più difficile? Forse è la riuscire a, non so se anche lì a Londra, riuscire a riuscire a noi avere più fiducia ad uscire, cioè avere più, riprendere quel coraggio anche di confrontarsi con gli altri. Ebbè è bello anche questo, perché vive in altro modo. Ok, ok. Allora, noi oggi, io purtroppo, non sarà così settimana prossima, ma purtroppo abbiamo i secondi contati. E' una giornata un po' così. Perciò io direi di partire subito con Antonella, qual è il suo punto di vista rispetto alla ripartenza? Ok, noi ritorneremo il 4 di luglio, quindi in due giorni sarà risollevato il lockdown, quindi la quarantena, dovremmo uscire dalla quarantena finalmente. Qui da noi è sempre un po' diverso, come sapete le resti... Va, i parchi sono sempre stati più o meno affollati, anche perché a Londra appena c'è una giornata di sole, purtroppo, o meno male, la gente si scarica i cani verde che abbiamo. Abbiamo... Già da un po' di settimane. E nei parchi ci sono stati anche parecchi, diciamo, meeting anche di festicciole, di musica, eccetera, sempre distanziata. Speriamo, le scuole sono state riaperte, piano pianino stiamo riprendendo, diciamo, la vita di tutti i giorni. Il prossimo passo sono i voli, quindi io spero di riuscire a volare quest'estate e magari venire anche in Italia. Eh sì, abbiamo in bado una pizza, eh, ricordati. Eh sì, poi c'è un'occasione che devo in bado. Che te lo prometta, assolutamente. E Antenella, per quanto riguarda... Appunto, ieri ci siamo sentiti e ne abbiamo un po' parlato. Ci volevi proporre un libro legato un po' al tema di oggi, che è quello del ricominciare. Da ricominciare, infatti, volevo proporvi questo libro, che mi appunto ho saltato agli occhi mentre ne parlavamo. Si chiama Reincarnation Blues. È un libro di un autore americano, Michael Poe. E praticamente è la storia di questo personaggio, Milo, che si trova ad affrontare vite diverse, rincarnandosi in una vita nuova ogni volta. Praticamente lui ha già vissuto 9.995 vite. E non sa che ne sono rimaste solo cinque per riuscire a, praticamente, arrivare al goal che sarebbe raggiungere lo stato. Al Nirvana. All'Irvana, ecco, diciamo. Esatto, esatto. Però lui non gliene spiega niente di sto Nirvana, perché lui proprio adora questo fatto di ricominciare ogni volta una vita nuova, anche perché sono vite completamente diverse, di persone completamente diverse. E poi, più che altro, lui adora appunto incontrarsi ogni volta, sembra una cosa un po' macraba, ma con la morte. C'è questo personaggio metaforico della morte che sarebbe la persona di cui si è innamorato. Quindi ha questa, diciamo, love story che praticamente si avvera ogni volta che muore, diciamo. E lui continua. Però il messaggio più che altro in questo libro ci dà è di cercare appunto di ricominciare sempre, nonostante i crolli, le cose che ci capitano nella vita, anche in questo periodo che magari ci sono successe tante cose, tante persone si sono trovate senza lavoro, senza famiglia, abbiamo perso tantissimo, io parlo in generale in tutto il mondo. È giusto, secondo me, avere la speranza di riuscire magari a ricominciare sempre, nonostante tutto. Il messaggio secondo me è questo. Bel libro, non vi dico come finisce, dovete leggervelo perché è molto, molto... Anche, nonostante tutto, c'è un po' di humor, fa anche sorridere molto. Sì, ho letto l'Astrafe, ma mi ha incuriosito, non mi sembra un libro assolutamente pesante. No, 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 correvo. Vediamo un po' anche i nostri ascoltatori cosa ne pensano. Domani controllo se qualcuno l'ha prenotato. Sì, sì, perché ho visto che ce l'avete anche voi in biblioteca, quindi... Tu sei bravissima, guardi sempre. Da prenotare, se si vuole. E facendo un salto in Portogallo, invece, che cosa ci consiglia la nostra vita Barbara? Guarda, facendo un salto in Portogallo, invece, io mi rialgancio a quello che stava dicendo Antonella quando parlava, appunto, di questo rincontrarsi, di questo ritrovarsi e parlando invece di un progetto che si ha di teatro, che stiamo realizzando, grazie all'appoggio di una biblioteca bellissima, anzi, mi è venuta anche un'altra idea che lo preverò, di Marvilla, biblioteca di Marvilla, che se googli vedi gli spazi stupendi che ha, in cui appunto stiamo ricreando, da punto di vista teatrale, quello che era la grande leggenda hindù, dove appunto difendeva la dignità delle persone che è stata dai deus che avevano deciso di togliere la gente perché non meritava, ma di nascondere dentro di loro, perché le persone sicuramente non sarebbero mai andate a cercare questo potere che avevano o questa capacità di risorgere in posti al di fuori loro stessi perché non sanno cercare dentro di sé, come diceva Antonella, molte volte la forza di ricominciare parte da noi, non ce n'è e quindi adesso mi ha fatto una coincidenza, parlava di questo e stiamo lavorando in un progetto e sono tutti progetti che sono anche loro rimasti in confinamento durante questo periodo, quindi sono andati avanti via Zoom e adesso cominciano a prendere forma presenzialmente e proprio parlando proprio ieri in questa, abbiamo avuto questa zoomata con la biblioteca e ci parlavano un po' di questa, della voglia che avevano questi bimbi di riprendere il contatto con questi spazi, la biblioteca di Marvilla è bellissima, perché occhio all'interno spazi non solo, vabbè, in direttura certamente, poi atelier pedagogici, auditori con teatro, dimmi domanda, domanda, ma sono già operativi con attività che vedono insieme ai bambini? No, ancora no. Attività solo da settembre, possibilmente. Da settembre. Esatto, però ecco stanno come state anche lì, quelle prenotazioni, c'è su richiesta, si disponibilizzano con orari specifici, però ad esempio nella parte esterale danno gli spazi a quei gruppi teatrali che non riuscivano ancora a praticare, allora aprono esclusivamente per andare avanti con questi progetti, poi vengono coinvolti anche tutti i cittadini della zona, molte volte sono pronti molto per un impatto sociale più che altro, che è importantissimo. E allora, sapendo di questa biblioteca, sapendo di questi bambini che volevano ritornare alla fila, che a volte le mamme portano, essendo questa una zona particolarmente con necessità speciali anche di difficoltà economiche, molte volte le mamme lasciano i bambini il pomeriggio in biblioteca lasciavano, perché andavano a lavorare, e li lasciavano in questo spazio, non avendo altre possibilità dove lasciarli, in tempi dopo scuole, la biblioteca diventava uno spazio fatto di accoglienza. E allora mi è venuto in mente, perché no, voilà, ve lo faccio vedere, rime, rime rimedio di Bruno Tognolini, perché leggendolo, a parte che ascolto sempre quello che pubblicate voi, che poi qua ricordo a lui. E questa è, c'è all'interno la rima per una biblioteca dei bambini che è svela. La posso leggere? No. Sì, assolutamente sì. Oggi siamo? Ah, ok. Vabbè, però rimedio mi prendi dal cuore, non posso dirti di no. Vai, al volo. Ah, giustamente. La biblioteca Capitana dei Bambini è una sala di romande e di destini, è una fontana di leggende e di passioni, è una collana che lega le stagioni. Lei attende ormai da 40 anni, aspetta i suoi bambini negli atunni e passano gli inverni, loro vengono, passano primaveri, loro leggono, passano grandi estati, loro crescono, poi non passano più, loro spariscono, vanno nel mondo, fanno figli, fanno figlie, fanno lavori, sbagli e meraviglie. Un giorno dicono ai figli, esiste un posto che è un palazzo, però assomiglia a un bosco, è una collana che lega le stagioni, è una fontana di leggende e di passioni, è una tana di domande e di destini. Li portano allora, li portano là, alla loro Capitana dei Bambini. Lei li guarda, sorride e dice, bravo, è il tuo bambino? Venite, li aspettavo. Beh, stupendo. E ha umanizzato la biblioteca che è fantastico. Dobbiamo chiudere questo meraviglioso collegamento che però vi promettiamo settimana prossima più spazio perché oggi è andata un po' così. Problemi tecnici non ci hanno dato la possibilità di poter stare insieme quanto volevamo. Perciò un abbraccio ad Anto da Londra e un saluto a Barbara da Lisbona. Un grande abbraccio, grazie. Ciao. 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 Sono un bravo ragazzo, un po' fuori di testa, random, e adesso Elios tocca proprio a te. Abbiamo gli ospiti. pensaci tu, pensaci tu. Amici di Bambini. Sì, sì, come promesso, assolutamente, come promesso all'inizio adesso è arrivato il momento dei super ospiti, anzi, dei super ospiti. Abbiamo oggi a Bibioboom, a ritardo dei miceli, che si occupa di comunicazione all'interno del CSBNO e Anna Lisè, che invece si occupa delle attività culturali, sempre all'interno del CSBNO. Se ho sbagliato, correggetemi. Buongiorno. Perfetto. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao Elias, ciao Francesco. Ciao. Ciao. Riccardo, ciao. Come state? Come state? Ah, benissimo. Benissimo. Finalmente ritorno qui da voi dopo tanto tempo, quindi è un piacere. Beh, però abbiamo saputo... No, diciamo, non vorrei dire una fesceria, ma tu avevi partecipato alla prima, forse. Alla prima o alla seconda? Hai aperto le danze. Dopo 25 ti abbiamo, come dire, a grande richiesta voluto ancora. Anche perché sappiamo che dalla 1 alla 25esima hai fatto un lavoro eccellente per, come dire, per promuovere e rendere attiva la biblioteca anche nel periodo di lockdown e anche in questo periodo che sta, come dire, di lento risveglio delle attività. Sì, ci stiamo provando adesso. Ovviamente una rete bibliotecaria non è il lavoro solo di una persona. Non a caso insieme a me oggi c'è Anna che è anche in questo periodo in cui si è passati dall'attività che prima erano solo comunicazione, no? Perché tutta, gran parte del lavoro delle biblioteche avveniva online, avveniva sui canali social, sul sito, eccetera. Adesso invece le biblioteche si stanno interrogando su cosa facciamo. Adesso che siamo aperte ma abbiamo gli spazi ancora non utilizzabili del tutto. Ed è qui che ci dà le risposte invece Anna, con la creatività di cui è portatrice e la sua capacità di fare relazioni. Ma Anna ti ha già presentato, ho fatto una mega presentazione, mi ha rubato il mestiere, Riccardo, quindi lascio la parola a te per raccontarci dell'iniziativa e anche altre iniziative di cui avevamo parlato ieri. Vai, è tutto tuo il microfono. Grazie, grazie a tutti e anche agli ascoltatori che ci stanno ascoltando. Allora, un'iniziativa che secondo noi è stata molto interessante che stiamo portando avanti in questo momento, è una sorta di campagna di promozione delle biblioteche che è nata proprio in questo momento di chiusura dei servizi e l'abbiamo considerata ancora attuale nel momento che le biblioteche è vero che sono aperte ma sono aperte di fatto soltanto come punto prestito, cioè si può entrare in biblioteca, andare a prendere i libri, ritirarli, consegnarli, fare persino due chiacchiere con i bibliotecari ma ancora non si può entrare, stare seduti, studiare, chiacchierare, vivere le biblioteche così come noi le abbiamo intese fino ad oggi che erano diventati dei centri di aggregazione, di promozione culturale, dei centri di socialità vera e propria. Oggi purtroppo ancora non sono riuscite a tornare a questo, temo che anche per l'estate non potranno esserlo, si spera effettivamente che il Covid ci dia tregua forse da settembre, così abbiamo lanciato questa campagna che nasce in maniera molto particolare dall'aspetto di una utente, amica di una delle biblioteche della nostra rete che c'è una lettera, una lettera dove raccontava le sue emozioni provate nel settembre delle biblioteche ma anche quelle della mancanza della biblioteca. Mi sa chiude una meravigliosa lettera con una frase, abbraccerò i muri quando le biblioteche riapriranno, l'addoro non potrò rivedere i bibliotecari, le persone che lo solito trovare, questi muri mi potranno rendere quell'aspetto che quel luogo mi ha donato in tanti anni. Io e Riccardo immediatamente abbiamo rubato questa bellissima frase, l'abbiamo fatta diventare un'etichessa, un tag, uno stag come si dice, abbiamo aperto un profilo Instagram e stiamo lanciando una campagna insieme a una nostra collega che si occupa anche di grafica, che ha adeguato una campagna molto speciale, secondo me, poi insomma, ci potrà seguire un feed che è un ritorno rispetto a, effettivamente anche ai colori usati, è molto, abbiamo usato dei colori, una paletta di colori molto strafice, molto senera, con dei disegni surreali, proprio perché è reale il periodo, ed è anche la frase abbraccerò i muri, che sembra facile, è una metafora meravigliosa quella di abbraccerò i muri, anche perché secondo me dietro c'è veramente tutto il desiderio di poter riabbracciare, cioè il muro è la fine di un rapporto con i bibliotecari, con il libro, con la struttura, con gli eventi, è proprio una metafora azzeccatissima, perciò devo fare i complimenti innanzitutto a voi due che avete colto da questa metafora e avete sviluppato questa eccellente, come dire, io la chiamo attività perché dietro ci sono un sacco di cose belle da scoprire. Ma sì, sì, guarda, se posso, se posso devo dire, adesso abbracciare i muri, riassume tutta la mail che ci ha mandato, si chiama Valentina Tagliabue, possiamo dire il suo nome? Anzi, è giusto, che ci ha raccontato, guarda, è incredibile perché ci ha raccontato la sua vita messa in parallelo con il rapporto con la biblioteca, quindi quando lei ha cambiato casa, quando lei ha iniziato ad andare in biblioteca per ragioni di studio, ma poi è diventata scrittrice e quindi ha iniziato a farci presentazioni, ma nel frattempo c'era il rapporto con i bibliotecari, ha cambiato varie biblioteche, guarda, è veramente una testimonianza incredibile, è per quello che noi ci siamo interrogati, anche perché contemporaneamente nel periodo di lockdown ricevevamo tantissime email di amici delle biblioteche che ci testimoniavano affetto, ci incoraggiavano a resistere, a tenere duro e volevano esprimere appunto qualcosa che avevano dentro e da lì è stato naturale pensare che ognuno alla fine nella sua vita vive la biblioteca in un certo modo, c'è chi va in biblioteca ad esempio a sesto, trova il pianoforte, magari ha sempre sognato di suonarlo ma non ne ha mai avuto uno e non ha mai potuto prendere lezioni, c'è chi fa dei corsi, magari faccio un corso di Excel e quello mi aiuta sul lavoro e posso avere un avanzamento di carriera, pensate a quante storie veramente dentro un rapporto con la biblioteca ci possono essere, vorremmo scavare e raccogliere tutto questo, quindi invitiamo le persone intanto a andare su Instagram, seguire questo profilo abbraccero i muri e a condividerne i contenuti il più possibile, aiutarci a darne diffusione, ma anche a seguire un po' le istruzioni che diamo in quel profilo per condividere i propri contenuti, quindi raccontarci il proprio amore viscerale per le biblioteche. Quindi Riccardo, come tu ben sai, io non è che sono un genio con tutti questi mezzi, Instagram, quindi uno va sulla pagina Facebook o Instagram di cui hai parlato prima e può inviarvi il proprio pensiero, il proprio… Sì, allora intanto noi chiediamo che il pensiero possibilmente ce lo mandino via mail, sembra strano in un mondo di social, abbiamo una mail che si chiama abbraccero i muri, chioccio la csbno.net, chiediamo questo per un semplice motivo, perché molte persone ci mandano pensieri molto articolati, molto lunghi e noi sui social pubblichiamo l'highlight, la frase che rappresenta tutto quello, come è stato abbraccero i muri per un testo che era molto più lungo e come diceva l'hanno, abbiamo una collega, Annalisa Castelli, che è bravissima, un malo della grafica, che ne fa delle piccole opere d'arte, delle piccole mattonelle che pubblichiamo su Instagram, dove poi mettiamo anche il contenuto completo che riportiamo anche su altri canali. Chiediamo che i contenuti ci vengano mandati via mail, anche perché noi in realtà non abbiamo previsto limiti, nel senso che sappiamo che gli amici delle biblioteche sono dei grandi creativi, a qualcuno piace scrivere, a qualcuno piace fare fotografie, a qualcuno piace disegnare, magari qualcuno vuole mandarci un vocale, un piccolo video, chi lo sa? Di sicuro possono immaginare loro molte più cose di quelle che abbiamo immaginato noi, quindi non vogliamo mettere limiti alla loro creatività, così come l'iniziativa non ha neanche limiti territoriali, è vero l'abbiamo pensata noi di CSBNO, ma vorremmo che diventasse una campagna per le biblioteche e le reti bibliotecarie di tutta Italia e stiamo ricevendo dei segnali in questo senso. vero Anna? Sì, 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 abbiamo coinvolto la Rete delle Reti, che è un altro progetto promosso da CSBNO, in Italia, credo Riccardo, dimmi se sbaglio, sono venduti, ma anche il Sistema di Milano ad esempio ho accolto nei soci da Spagna e la stiamo dividendo proprio questa mattina nelle sue storie, sempre sul profilo Instagram. E questa cosa è interessante, era ai nostri sogni e proprio alla volta, appena iniziata, ancora, il tempo. sempre, vorremmo proprio che fosse una campagna di amore nelle biblioteche e di tutto il mondo che ci sta chiesto dentro, a scorno, ai cari, ai amici, alle persone che hanno lavorato anche in biblioteche, stiamo proprio chiedendo a tutti di dare un pensiero. Devo dire che il è una qualità, peraltro, è abbastanza, è abbastanza. Purtroppo il tempo tiranno ci sta, siamo quasi, cioè, ci fa chiudere il, però io direi che noi questa cosa la potremmo approfondire ancora nelle prossime puntate, Elios, se siete d'accordo, anche perché mi piacerebbe capire l'evoluzione, è interessante partire da una campagna locale per poi avere l'ambizione di renderla con la rete delle reti una campagna nazionale e poi veramente la metafora che avete scovato e l'avete resa così potente nella comunicazione è eccezionale, perciò i complimenti. Grazie, Francesco. No, come al solito, come al solito, fantastici, vi salutiamo e veramente, se non la prossima, l'altra ancora, non giovedì prossimo, l'altro ancora, ci farebbe piacere riavervi così per andare a dettagliare in maniera particolare anche l'evoluzione di questo progetto fantastico. Quando volete, magari ve ne leggiamo anche qualcuno. Assolutamente, infatti era questo, da approfondire. Grazie, grazie mille. Assolutamente sì. Riccardo, ti faccio lanciare a te la canzone, visto che l'hai scelta tu. Ah, va bene, ok. Mi lasciamo con un brano di Gamon, che a me piace moltissimo, si chiama Fantasmi parte prima, ma oltre a piacermi è una particolarità, che Gamon è così bravo che riesce anche a fare una rima con biblioteca, quindi godetevelo. Corriamo, corriamo, corriamo. Sicuramente va bene, riprenderemo questo discorso bellissimo con i ragazzi del CSBNO, con questa campagna di Cardo e Anna. Assolutamente. Elios, dai, al volo. Di cosa abbiamo parlato oggi? Quali sono stati i libri consigliati? Così ci portiamo a casa anche questo giovedì. Anna ci ha consigliato Chiara Gamberale per dieci minuti, poi la nostra Antonella da Londra, Reincarnation Blues di Michael Pooh e poi Barbara da Lisbona, un libro di Tognolini, Rime e Rimedio. Questi sono i suggerimenti che ci sono stati dati oggi dai nostri amici ospiti. Radio Ascoltatori. Allora, noi facciamo in modo che questa puntata vada domani mattina in replica, perciò domani, venerdì, mandiamo questa puntata che all'inizio ha avuto piccoli problemi tecnici, la mandiamo interamente domani mattina. Ok, Elios? Ok, allora tutti sintonizzati anche domani mattina, non mancherò. Ciao, buon tutto, ciao ciao. Buon tutto, buon weekend, ciao. Grazie.